Dopo aver realizzato il nostro semplice disegno bidimensionale, ora ci cimentiamo con il nostro primo disegno 3D. Prendiamo spunto dal disegno che abbiamo appena fatto e vediamo come iniziare a lavorarci per realizzare il 3D di questo oggetto. Ho preparato comunque il mio PDF con le quote, che sarà certamente utile nel momento in cui vado a costruire il 3D di questo disegno. Torno ovviamente su AutoCAD, ora qui abbiamo troppe informazioni, dobbiamo spegnere questo, lo facciamo con l'aiuto della gestione dei layer. Andiamo a nascondere tutti quei layer che non ci interessano per il 3D. Lasciamo ovviamente la parte delle linee importanti del disegno e anche ho preparato un layer 3D dove verrà posizionato il pezzo tridimensionale. Questo è il risultato dello spegnimento dei layer. Ora dobbiamo un po' ragionarci su quali sono i profili più importanti per l'estrusione e per quindi la realizzazione del nostro pezzo. Allora direi che questa parte ci sarà utile per sviluppare il 3D dei due bracci qui laterali. Possiamo tranquillamente toglierli da questo punto. Andiamo a completare il pezzo mancante. Stessa cosa per quanto concerne quest'altro lato. Via. Perfetto. Questo non ci interessa e anche questo secondo me possiamo tranquillamente cancellarlo. In questa fase queste tre parti centrali saranno semplicemente estruse. Mentre direi di far così per quanto concerne la parte laterale. Tiriamo via tutte le linee che sono in più. Ecco qua. Basta semplicemente questa linea. E la agganciamo su questo spigolo. Questo è quello che ho lasciato. Una parte è la letterale che poi gireremo e metteremo in posizione. Questa parte verrà duplicata quindi faremo sia la parte destra che sinistra del nostro pezzo. Mentre le parti centrali subiranno un'estrusione così come sono. Cominciamo. La parte centrale, lo osservo da qui, è alta 15 mm. Quindi questa parte verrà estrusa di 15 mm. Mentre queste due parti sono alte 6 mm. Anche qui dobbiamo prendere una decisione. Perché abbiamo due possibilità. Innanzitutto mi posiziono. Facciamo uscire la barra delle viste. Eccola qui. Posizioniamo in questo punto. Mettiamoci in questo tipo di vista. Che è più pratica per l'estrusione. Allora ho due possibilità. O estrudo e poi posiziono con il comando sposta i miei oggetti e quindi riesco a ottenere questo solido 3D. Questa parte di solido 3D la ottengo comunque con un semplice spostamento. Oppure decido di estrudere tutto di metà e poi uso il comando specchio 3D per farne l'altra metà. Cominciamo con quest'ultima ipotesi anche se è più complessa. Ma andiamo a vedere cosa succede. Qui potrei ovviamente fare delle regioni e usare il comando estrudi. Ma è molto più pratico usare direttamente il premio e trascina. E andiamo a vedere. Abbiamo detto di 3 quindi estrudiamo di metà. Quindi 3 e 7,5. I nostri due primi elementi. Allora premio e trascina. Questo lo estrudiamo di 3. Compreso questo. Sempre di 3. Mentre la parte centrale abbiamo detto 7,5. Abbiamo in questo modo realizzato metà dell'estrusione. Mettiamoci in questo tipo di visualizzazione e diventa tutto più chiaro. Allora non ci resta altro che fare l'altra metà con il comando Edita, Operazioni 3D, Specchio 3D. Eccolo qua. Selezioniamo i nostri oggetti. Poi ci chiede tre punti per definire il piano di specchiatura. Quindi possiamo dare tranquillamente questo. Potrebbe essere questo. E quest'altro punto. Mi sta chiedendo il piano. Eliminare gli oggetti sorgenti. No. Ecco fatto. Ho realizzato in questo modo quello che volevo. Il mio oggetto 3D. Non faccio altro adesso che unire per realizzare un ultimo blocco. Ma io invece ritorno sui miei passi per costruirlo con un'altra ipotesi che è un po' più veloce. Sempre comunque con il comando Premi e Trascina. Quindi comando questo. Lo estrudiamo di 6. Compreso questo. e la parte centrale.